La cultura che conta è quella che si fa con le persone, per le persone. Noi siamo cultura perché la cultura è una cosa che si vive. Noi siamo cultura perché portiamo l'umanità in quello che facciamo. Sulla F, un viaggio in otto tappe alla scoperta di realtà indipendenti, territoriali e creative che in Italia fanno cultura. La cultura è tutto quello che ti rimane dopo che hai dimenticato ciò che hai imparato. E quindi cultura è quello che non passa necessariamente attraverso il libro, ma passa attraverso la pelle. Noi siamo cultura. In onda sulla F e disponibile on demand.